Tocco per Davids Poi di prima verso Nedved Rischiato qualcosa qui Tudor Nedved Ancora straordinario Nedved La conclusione a Rete 5 a 0 Pavel Nedved Che serata Sì, una roba veramente entusiasmante Si è portato una palla di testa L'ha andato a prendere tra l'altro Tra i piedi dell'avversario Con una grinta, con una voglia Questo è un giocatore formidabile Io non so, guarda Veramente non ho mai visto giocare Un giocatore con questa rapidità Con queste accelerazioni Con questo scorribband E un turbo, come ti dicevo prima Nel motore di questa Juventus Che è una Ferrari Veramente è una Ferrari Guarda come combatte su questo pallone Lo strappa letteralmente da Pepe E poi il sinistro Pallone preciso, potente Guarda, guarda che conclusione Ma non bisogna dimenticare Che la conclusione è arrivata Dopo una corsa di qualche metro Dopo aver rubato il pallone a Pepe Quindi, teoricamente, poteva anche essere stanco Poteva anche essere impreciso Certo Nella sua conclusione Pavel Nedved Ha messo dentro il gol Del 5-0 E anche per lui È il primo sigillo In questa stagione In questa stagione 2002-2003 Io credo che stasera Il Milan La giulicale Da quanto ci dicono Che sta succedendo In Spagna E la Juventus